Questo tipo di interlocuzioni naturalmente sono finalizzate a garantire che il DL abbia un iter più spedito possibile. Se la minoranza vorrà fare delle proposte costruttive, le valuteremo, ripeto, diversamente proseguiremo nella discussione del testo. Naturalmente non permetteremo che il contenuto di questo testo venga snaturato nei principi che vuole proporsi, quindi i principi di programmazione, di una transizione energetica fatta secondo le regole che i sardi vorranno darsi. E' impensabile quindi una sorta di fusione con la proposta di legge di iniziativa popolare per il 2024? La proposta di legge di iniziativa popolare ha un contenuto diverso. Come abbiamo già detto, il DL45 ha un contenuto programmatorio, la programmazione dalla quale noi non possiamo in alcun modo prescindere.